Io voglio salutare per le interviste di Agorà in questa campagna elettorale, ormai mancano otto giorni al voto, il Presidente Conte che è collegato dalla Sicilia. Presidente, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie per questa occasione di confronto. Ben trovato, ben trovato e grazie a lei. Allora, a proposito di giustizia, nessuno è al di sopra della legge, neanche un ex Presidente degli Stati Uniti, Presidente Conte. A dire assolutamente no, è un principio fondamentale di separazione dei poteri che in tutti i sistemi democratici avanzati viene riconosciuto. Il potere esecutivo deve fare il soccorso, ma anche la giustizia e il potere giudiziario fa il soccorso. C'è stato un processo, dobbiamo ritenere un giusto processo, non possiamo pensare che negli Stati Uniti ci siano processi politici. C'è stata questa condanna di cui bisogna prendere atto. Pare che per il sistema americano ci sia la possibilità comunque di correre ancora per le presidenziali, per l'ex Presidente Trump. Adesso i cittadini evidentemente dovranno decidere, ma immagino molti decideranno anche alla luce, in un senso o nell'altro, di questa prima condanna. Poi ovviamente, come sempre, lo dico anche da avvocato, bisogna leggere le carte e capire quali sono le specifiche contestazioni e motivazioni di questa sentenza. Esattamente così. Questa condanna non impedisce a Trump di correre per le prossime presidenziali. Presidente, dicevo, mancano otto giorni, ormai al voto. Lei sta girando in lungo e in largo l'Italia. Che impressione sta traendo di questo paese nel viaggio che lei sta facendo? Ma guardi, il viaggio che noi facciamo è un viaggio che ci porta a contatto con le persone, che ci porta a fermarci a parlare con tante storie di vita quotidiana che denunciano le difficoltà di arrivare a fine mese, le difficoltà di andare a un pronto soccorso. Pensiamo, questo è anche certificato dai dati, sono aumentate a fine 2023 e aumentata la media delle ore di attesa in pronto soccorso. Siamo ormai a 31 ore. Significa che quando si va in pronto soccorso, pronto soccorso, si aspetta quasi un giorno e mezzo. Questa è la media di ore. Le liste sono lunghissime per un semplice e banale esame diagnostico. E questo riguarda tanto il sud, il centro, il nord, le isole. Insomma, è una realtà un po' diversa. Diversa da quella raccontata da Giorgia Meloni, che ancora ieri sui canali di Mediaset in una trasmissione ha portato dei cartelli per isolare alcuni dati, per raccontare una realtà in cui tutti gli italiani, le famiglie, le imprese dovrebbero essere felici. Però, ascoltate, non è possibile isolare un dato, andare in tv e voler convincere tutti che devono essere felici di questa reale condizione di difficoltà e sofferenza. Ha raccontato che noi saremmo corsi con lei più della media europea in termini di PIL. Tutti gli istituti accreditati internazionali più seri ci danno 0,6% di PIL al di sotto della media europea. Ma in più ce lo danno sul presupposto che abbiamo un PNRR dove stiamo andando invece molto a rilento. Quindi c'è il rischio che si comprometta anche questa bassissima crescita e stiamo diventando il farnellino di coda di Europa. Poi c'è il dato dell'occupazione. E qui andrebbe aperta una riflessione. Ecco, Presidente, le chiedo scusa, le interrompo perché stavo ragionando, ascoltandola proprio su questo. Oggi, ad esempio, ho preso il sole. Tasso di occupazione al 62,3%, che è il valore più alto di sempre. Con un paese che però fatica. Come si legge? Come si declina un dato oggettivamente buono e una parte di paese che fa invece una grande fatica? Ecco, questo bisogna spiegare. Perché io credo che ieri molti che hanno sentito la Meloni si sono meravigliati. No? Di sentire questi dati, l'occupazione, eccetera. Allora, bisogna leggerli con attenzione perché se no sono dati irrealistici, diventano che non rappresentano la realtà. Allora, se lei va a vedere, vedrà che ormai aumentano i cassi in quel numero di occupazione complessiva. Ci sono anche i cassi integrati. Spieghiamolo. Cioè, i cassi integrati fino a tre mesi vengono considerati nelle statistiche a tutti gli effetti come occupati. Va bene? Allora, che cosa è successo? Che soltanto nei primi tre mesi abbiamo 60 milioni di ore di cassa integrazione aumentano. A fine 2023 erano più 25 milioni. Quindi sta aumentando tantissimo il numero dei cassi integrati. E lo dimostra un altro dato che noi aggreghiamo. Il calo consecutivo per 14 mesi della produzione industriale. Quindi allora questi dati messi insieme, che cosa ci dicono? Ci dicono quello che ci stanno dicendo le famiglie. Hanno perso un potere reale del 16%. I salari, perdita di potere reale vero. Cioè, loro hanno difficoltà a fare la spesa. Perché con gli stessi soldi non riesco a tenere dietro a quello che è l'andamento dell'inflazione dei prezzi. Uno. Due. Aumentano i cassi integrati. Le aziende sfruttano una cassa integrazione perché c'è un cauto della produzione industriale complessivo. E più quindi aumenta. Scusi, aumenta anche il numero dei contratti lievemente a tempo indeterminato. Però attenzione, quei contratti a tempo indeterminato diventano sempre più contratti part time. Quindi la qualità del lavoro complessivamente diventa sempre più scarsa. Lei dice, Presidente Conte, le chiedo scusa perché così andiamo un po' velocemente. Cioè, sintetizzo così, questo 62-3 ha degli elementi di doping. Ecco, lo metto così. No, è un dato che complessivamente non restituisce la crescita del lavoro povero. Le persone e le famiglie sono impoverite e soprattutto tra lavori a termine, lavoro a chiamate, intermittenza, lavoro part time, questa è la gran parte del lavoro che viene offerta al mondo del lavoro. Cioè, in sostanza, questo spiega ed è del tutto compatibile col fatto che le famiglie non riescono più a acquistare una prima casa, non riescono a pagare mutui, non riescono a tenere dentro alle bollette. Sono in oggettiva difficoltà. E attenzione, il numero complessivo dei poveri assoluti, 5 milioni e 700 mila cittadini, è aumentato. E questo è un regolo storico. Presidente, andiamo sugli altri temi. La maggioranza, insomma, ha rivendicato in questi mesi l'abolizione del reddito di cittadinanza, dicendo che il superamento, la riforma di quel sussidio ha determinato un aumento immediato dell'occupazione. I dati sembrerebbero confermare questa crescita, lo stiamo dicendo, sui numeri dei posti di lavoro. Lei oggi, se stesse al governo, manterrebbe, Presidente, il reddito di cittadinanza? Ma sta scherzando. Non solo manterrei, diventa ancora più necessario in questo contesto. Ovviamente continuerei a lavorare, come stavo facendo, per le politiche attive, cioè per la riqualificazione e formazione. Ma poi, guardi, forse non si è compreso, perché il governo sta gestendo in modo molto miope, con nessuna visione, nessuna misura che rilancia la competitività, l'economia. Si sta battendo uno tsunami, sta arrivando l'intelligenza artificiale, si sviluppa la robotica. Noi abbiamo bisogno di piani straordinari, ma non solo a livello italiano, a livello europeo, per gestire la scomparsa di tante figure professionali con l'intelligenza artificiale e la creazione di nuove figure professionali. Abbiamo bisogno di investire tanto per gestire questa transizione. Qui gli unici soldi che si mettono a livello italiano e a livello europeo sono per l'acquisto di armi, perché ormai le industrie belliche... E adesso arriviamo anche lì. Il collettivo della corsa a riarmo. Presidente, l'altro grande tema... Sì, sì, adesso, Presidente, arriviamo anche lì. Non voglio interromperla, ma sa che abbiamo un tempo determinato, perciò voglio farle, insomma, il più domande possibile. Quando il Ministro Giorgetti, invece, ha annunciato la revisione delle regole superbonus, lo ricordiamo definendolo un mostro natomale dall'inizio, lei ha rivendicato con convinzione la bontà di quel provvedimento. C'è qualcosa di quella norma, Presidente, che oggi cambierebbe? Oppure la rifareste esattamente uguale? Allora, guardi, quella norma... Mi dispiace la disonestà... Prendo atto della disonestà della Presidente Giorgia Meloni, che ancora ieri parla della norma Conte. Quella norma, credo, sia stata modificata più di 20 volte da interventi normativi di Draghi e Meloni. Meloni sono questi due anni che ha il governo, Giorgetti sono tre anni, che governa, peraltro, questa misura. Prima era con Draghi Ministro dello Sviluppo Economico. Come si fa a dire la norma Conte? Per quanto riguarda me, io le dico subito, il Paese ha bisogno e una necessità di rigenerazione urbana. Cioè noi dobbiamo riqualificare i nostri edifici tutti di ricchi e poveri. C'è poco da fare. Non possiamo più permetterci consumo di suolo. Dobbiamo andare invece verso una lotta all'inquinamento atmosferico, la lotta ai cambiamenti climatici, il taglio delle emissioni. È una strada necessitata. E chi dice di no prende in giro gli italiani. Non possiamo più edificare, non possiamo più indulgere sul fosso, non possiamo più trivellare i nostri mari. E allora questo è un percorso che va fatto con un eco bonus. Nessuno ha mai sostenuto che doveva essere 110% negli anni a venire. Era un piano straordinario da pandemia. Chi lo ha governato, ormai è grande, sono anche politici di lungo corso, Meloni, Giorgetti, possono assumersi qualche responsabilità davanti ai cittadini o non è mai colpa loro, non hanno mai colpa di nulla, sempre alibi, alibi per le loro incapacità? Presidente, veniamo all'Europa. Mi dice, insomma, in maniera sintetica, abbiamo ancora qualche minuto, che Europa, insomma, la visione d'Europa, e peraltro è il nostro titolo di oggi, Eurovisioni, la sua visione d'Europa dopo questa tornata elettorale, e poi le chiedo in quale gruppo siederanno gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle dopo il 9 di giugno? Guardi, è presto detto, qualsiasi nostro candidato in lista avrà e garantirà questi obiettivi. Quindi a noi non c'è chi la pensa, chi è guerrafondaio, chi è pacifista. Tutti si impegneranno a essere costruttori di pace in ogni votazione, ogni passaggio legislativo, ogni iniziativa, saranno assolutamente determinati per costruire i negoziati pace per risolvere il conflitto russo-ucraino e diranno fermamente no al proseguo di questo massacro a Gaza inaccettabile, atroce, una pagina nera della storia di questo nuovo millennio. Per quanto riguarda l'austerità, diranno no a questo patto di stabilità sottoscritto da Meloni e modo del tutto passivo accettato che ci porterà tagli persino alla sanità, all'istituzione, di 13 miliardi l'anno. Una cosa incredibile. Diranno no alla corruzione. C'è stato anche il Qatargate. La corruzione ai vertici massimi europei delle istituzioni europee. Si batteranno per rinforzare il piano di corruzione. Si batteranno per una intelligente gestione di questa transizione dovuta all'intelligenza artificiale e al suo impatto e per proseguire in una transizione verde. Abbiamo bisogno di aria più pulita. Abbiamo bisogno di combattere gli allevamenti super intensivi. Non sappiamo più che carne mangiamo. Non sappiamo più che cosa mettiamo sulle nostre tavole con tutti questi pesticidi. E in più diranno più diritti pari per tutti effettivi. A partire da un matrimonio egualitario offerto a tutti, a partire dal divario di parità salariale che ancora esiste tra uomo e donna. E questo appunto si lega anche alla prima domanda che io le ho fatto. Abbiamo due minuti, Presidente. Lei l'ha accennato. Tutto quello che noi stiamo raccontando, commentando, vive in un tempo drammatico. Veramente pensa che le posizioni come quelle espresse, ne parleremo anche più tardi, in puntata torneremo da Borrello o dal segretario di Nato Stoltenberg, rischiano davvero di portarci alla terza guerra mondiale, Presidente? Guardi, se lei accetta... Le faccio questa domanda, mi risponda lei. E tutti i telespettatori, idealmente, è un discorso logico. Se lei, sono oltre due anni che ha deciso di accettare, esclusivamente, di portare contro la Russia, di scommettere sulla vittoria militare sulla Russia, di accettare un confronto militare e la relativa escalation, mandando armi sempre più letali, sempre più sofisticati, a cui la Russia e Putin rispondono con armi sempre più letali e sofisticate, secondo lei, qual è il punto in cui ci si ferma? È punto, Presidente. Io però vi faccio un'altra domanda. Ma allora qual è la soluzione alternativa, la possibile strategia alternativa a questo? È già scritta nei libri di storia. Perché ormai vengono fuori i documenti inediti? Pensi che dopo un mese, due mesi all'aggressione di Putin, mentre i nostri leader parlavano di un pazzo criminale, un animale, quindi già dicevano alle opinioni pubbliche che non si potevano sedere, non doveva nessuno sedersi al suo tavolo, c'è stato un negoziato vero, concreto che poteva metter fine. Il fronte della Nato occidentale invece ha deciso di optare per la strategia del confronto militare convinti di far collare l'economia russa di battere un esercito obsoleto quello russo. I documenti inediti addirittura pubblicati su una rivista autorevole fori affaires dimostrano che il negoziato è la portata di mano e noi l'abbiamo sempre detto a se si investiva e ancora oggi ovviamente con minore potere contrattuale investire sul negoziato di pace sugli sforzi diplomatici le guerre sono sempre finite contrattati di pace se ovviamente la Nato invece continua a scommettere sulla vittoria militare ci porta in terza guerra mondiale come sta succedendo Presidente abbiamo finito il tempo però le faccio un'ultima domanda che racchiude tutto si fanno tanti nomi ieri con noi Antonio Tagliani per la presidenza della nuova commissione europea ma lei lo voterebbe Antonio Tagliani oppure Mario Draghi oppure ha un nome in testa un altro nome ci siamo fermati con il collegamento col Presidente Conte si è frizzato si è bloccato allora vediamo se riusciamo almeno a salutarlo non credo ci siamo fermati ma il tempo a disposizione era finito grazie a Presidente Conte per essere stato con noi oggi ad Agora avremmo voluto palleggiare con il nostro Tommaso Giuntella Tommaso buongiorno ben trovato l'abbiamo già fatto col Presidente Conte dopo la vittoria in Sardegna Tommaso buongiorno anche a te perché buongiorno Roberto io ci riprovo comunque perché all'epoca ne feci due vediamo se ne riesco a fare no niente più di due non ci riesco Presidente Conte lei fu molto più bravo a palleggiare buongiorno rispetto a Tommaso Giuntella ne fece sei siamo più allenato eh certo più allenato certo peraltro vi dico il nostro politico il servizio sì velocemente Tommaso sì solo una cosa che Renzi poi gli ha provato a rubare l'idea questo però aumentare il rapporto tra Conte e Renzi peraltro il nostro politico che è il servizio che giriamo ogni giorno mezza la gente oggi appunto useremo per raccontare questi ultimi giorni di campagna elettorale proprio la metafora dello sport Presidente Conte grazie per essere stato con noi questa mattina grazie davvero buon lavoro grazie a voi buona giornata grazie 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 presidente questo punto grazie a tutti grazie a tutti